Fare una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia o in Europa ha un determinato costo fisso e questo costo è lo stesso sia che si voglia registrare un equivalente sia che si voglia registrare un farmaco originator. Quindi in Italia credo che stiamo con delle tariffe intorno ai 25 mila euro per la richiesta di una IC, in Europa costa credo intorno a 10 volte tanto, 250 mila euro. Diverso è stimare quanto costa sviluppare un nuovo farmaco e queste stime in genere vengono fornite dalle aziende farmaceutiche che sviluppano farmaci originali, originator, le quali in questo momento storico ti dicono che portare sul mercato un nuovo farmaco costa a un'azienda farmaceutica fra i 2 e i 2,5 miliardi di dollari e questo qui è una delle motivazioni forti per cui le grosse aziende cosiddette Big Pharma che in genere portano sul mercato 3-4 nuovi prodotti in un anno, quindi devono affrontare spese per un totale di circa 10 miliardi di dollari, devono avere dei bilanci per cui questi 10 miliardi sono in più che si mette per investimenti. è una storia molto lunga, le aziende farmaceutiche sono in ambito industriale le aziende più etiche che esistano perché sono quelle che spendono più soldi per sviluppare nuovi farmaci, nuovi prodotti. Un'azienda come può essere Merck o Pfizer deve mettere in bilancio una percentuale che è intorno al 20% di tutti i soldi che guadagni in un anno per poter sviluppare nuovi farmaci. Se voi considerate cosa fa un equivalente che sta in un altro settore, per esempio la Apple per portare l'iPhone 8 diciamo le cifre per investimento di Apple sono al di sotto del 3% perché è più facile sviluppare telefonini che farmaci. Ok, quindi costi molto alti di sviluppo e credo di aver risposto. Volevo aggiungere una cosa, giusto perché non sembri che eventualmente si possa a qualcuno far l'idea che io e Pierluigi lavoriamo per aziende di farmaci equivalenti, visto che ne abbiamo detto finora bene. C'è un altro aspetto non trascurabile, la rete delle persone che lavorano in quell'azienda. Quando c'è un nuovo farmaco è importante che ogni medico, ogni farmacista sia informato quindi ci vuole una rete di persone numericamente importante che deve girare tutta l'Italia, tutti gli studi quindi servono parecchi informatori scientifici. Le aziende che propongono farmaci a vero scaduto vendono farmaci che si vendono da soli che sono nell'uso da 15-20 anni, notissimi, usatissimi, che non hanno bisogno di essere rinforzati nel ricordo perché non se ne può fare a meno e per questo hanno delle reti di personale decisamente più ridotto delle altre industrie. Quindi hanno dei costi in termini di personale che lavora sicuramente più contenuti. quindi hanno una serie di spese in meno, questo giusto per bilanciare il panorama perché se no sembra che diciamo solo bene di uno e male dell'altro e anche quello di nessun modo per limitare le spese.